L'Istituto Professionale per i Servizi Sociali di Polla si amplia, è stato infatti dato il via all'iter per l'istituzione di una nuova sede distaccata ad Albanella. A darne l'annuncio è stato il sindaco di Polla, Massimo Loviso. Queste iniziative, ha detto, sono anche motivo di unione per i diversi territori, unire le forze consente di raggiungere i migliori risultati. A far rieco anche l'assessore alla scuola di Polla, Federica Mignoli, siamo lieti, ha dichiarato, di aver dato inizio a questo percorso di sinergia scolastica. Con l'apertura del nuovo istituto, unico nel suo genere, si potrà coinvolgere un ampio bacino d'utenza che abbraccia i due territori e in questo modo fornire un'adeguata risposta sociale, formativa e professionale per gli studenti che abitano in queste località. L'istituto superiore, qualora l'iter dovesse andare a buon fine, sarà aperto nella struttura dell'ex istituto alberghiero di Albanella e avrà indirizzo ottico e sociosanitario, a seguire da vicino la realizzazione della sede distaccata alla provincia di Salerno. Dopo l'intervento di miglioramento e ampliamento della sede distaccata dell'alberghiero di Capaccio, ha detto il consigliere provinciale Giovanni Guzzo, abbiamo lavorato assieme alle due amministrazioni per la sede distaccata dell'istituto superiore di Polla che può e deve rappresentare per Albanella e tutta la Piana del Sele non solo un'attrazione culturale ma anche un ampliamento dell'offerta formativa.